Benvenuti allenatori in questo consueto video del venerdì, come sempre io sono Roberto e io sono Jacopo e siete nel nostro canale questo Pokémon a chi lo do. Oggi è il 13 di novembre. Che giorno è il 13 di novembre? Il giorno di... Voltaggio sfogorante. Esatto ragazzi! Dopo la botta di... Fortuna che ci ha assistito la volta scorsa con l'apertura del kit pre-relays Oggi, come da tradizione, con l'uscita di ogni nuova espansione, ci andiamo a spacchettare il... Satoranatore Policlasser Perfetto! Quindi sono dentro otto buste più tutta quella robetta varia che ci piace tanto Allora ragazzi, prima di cominciare a spacchettare vi volevo dire un paio di cose Allora, prima di tutto, anche oggi dobbiamo dedicare dei video Ogni pacchetto ha una dedica particolare ogni pacchetto Quindi questa è una cosa molto importante Mi sono segnato qua tutti i nomi, ce li abbiamo tutti prenotati praticamente pacchetti Otto pacchetti Otto pacchetti prenotati Tutti e otto pacchetti c'è una persona che li vuole dedicare YouTube, TikTok Su TikTok, tutti su TikTok Sempre, sempre Che fra l'altro abbiamo già 500 iscritti su TikTok Sono tanti Allora ragazzi, a proposito Oggi spero di riuscire a sculare anche io Perché? Perché ieri è stato Il mio Compleanno Compleanno Esatto, quindi speriamo che Jacopo oggi mi lasci i pacchetti Più fortunati Più fortunati Allora ragazzi, prima di cominciare mi raccomando Mettete like al video Non dimenticate, iscrivetevi se non l'avete fatto Ma soprattutto vi chiediamo un grandissimo favore Nella descrizione troverete un piccolo link a un sondaggio Ci serve per capire come poter migliorare il canale Quindi ci fareste un enorme piacere Naturalmente il questionario è in forma anonima Però ci dà tante informazioni importanti Per potervi offrire dei contenuti Sempre molto utili E che Voi gradite Quindi per favore Dedicateci proprio tre minuti del vostro tempo Perché ci vuole veramente poco Devo dire altre due cose Perché col tempo adesso dobbiamo fare le persone serie Abbiamo 850 iscritti Quindi dobbiamo cominciare a fare le persone serie Ok? Quindi prima di spacchettare Che tu so che è già smani dalla voglia C'è pure la maglietta di Pikachu C'è pure, falla vedere Falla vedere Falla vedere Pikachu Spettacolare Qua dentro fa un freddo assurdo Ma nonostante questo Tu ti sei voluto mettere la maglietta di Pikachu È vero? C'è la felpa C'è la felpa Io invece vedi sono vestito bene Perché oggi è un giorno importante All'uscita di Fragore Ribelle Allora passiamo Eh di Fragore Ribelle Eh di Fragore Scusate Di Faltaggio Svolgorante Guardate che c'è questo bel Pikachu Panzottino Che ci guarda E ci piace tanto Allora ragazzi Volevo dire una cosa importante Ti ricordi quella cosa che ti ho detto Del fatto che ci sono youtuber Che cercano di comprare le carte a poco prezzo Ah sì Allora vi volevo dire una cosa importante Naturalmente non farò nomi Ci mancherebbe altro Però questa settimana Ci ha contattato Un ragazzo Che voleva vendere Le sue carte A un famoso youtuber Non dirò il nome Con molti follower Tantissimi Che cosa succede? Lui mi ha mandato Le foto delle carte Che avrebbe voluto vendere Eeeh Chiedendomi una valutazione Allora Sappiate che E Allora Le carte pokemon Non sono pepite d'oro Quindi Non è che Se avete le carte pokemon Anche Le prime edizioni Avete Una Una fortuna Un tesoro In cantina Sono sicuramente Hanno sicuramente Un valore Ma sicuramente valgono Molto meno di quello Che si pensa Dall'altra parte Però E' importante Sapere bene Il loro valore Quindi informatevi Perché Purtroppo Mi è capitato Di constatare Che in giro Si cerca sempre Di Se tu magari Sei uno youtuber Famoso No? E io ti voglio vendere Le mie carte Tu che cosa fai? Butti un prezzo Bassissimo Io magari Non so il vero valore Delle carte Quindi tendo Ad accettare Quindi c'è Un doppio errore C'è l'errore Suo Che cerca Di Prendere a poco prezzo Delle carte Di Un discreto valore E io che non mi sono Informato prima Quindi Ragazzi E Interesse vostro Quando vendete Le carte Informarvi Sul valore Ci sono una marea Di siti C'è card market Card trader C'è i venduti Di ebay Informatevi Sui prezzi Ovviamente Molto Il valore delle carte Molto incide Anche sulle condizioni Per esempio Ieri Ho portato a casa Un lotto Che fra l'altro Non riusciamo a farvi vedere Perché non so nemmeno Dove l'ho messo Cioè ci sono delle carte Che sono In condizioni Pietose C'era una Con lo scotch Esatto Cioè Non è che Anche se quello Fosse un Charizard Cioè Va bene Sia un valore Però giustamente Dovete tenere conto Di vari fattori Quindi È importante Ricordatevi Che dietro Ogni buon affare C'è un pessimo affare Per qualcun altro Quindi è interesse vostro Informarvi E ricordatevi Sempre Che il prezzo Lo fa Chi vende Che questo sia ben chiaro Che cosa vi posso dire io Se avete un dubbio Ma anche semplicemente Per avere un aggiornamento Sul valore della vostra collezione E ci volete contattare Scriveteci su Instagram Noi magari Non riusciamo a rispondere subito Però magari Guardiamo con piacere Le vostre carte E vi possiamo dare una mano Nel valutare Non chiediamo niente In cambio Noi non chiediamo soldi Non vogliamo soldi Non vogliamo niente Naturalmente Ci farebbe piacere Magari se ci fate un po' Di pubblicità Magari Taggandoci in qualche storia Quello ci farebbe Molto piacere Quindi contattateci su Instagram Se volete il nostro aiuto Noi lo facciamo Con molto piacere Vi anche devo dire Un'altra cosa Molto importante Poi cominciamo a spacchettare Hai visto che cosa c'è Pure qua Di voltaggio sfolgorante Allora abbiamo un box Questo io l'ho comprato L'ho preordinato Il 10 di ottobre Mamma mia Quindi più di un mese fa Ieri però Ho visto su Instagram La pubblicità Di un negozio Che vende i box In italiano Di voltaggio sfolgorante A 129 euro e 90 Quindi Bene circa 3 euro e 60 A bustina Il negozio Per il quale questa Non è pubblicità Ci manca Perché noi Questo non lo abbiamo Comprato da loro Però nel senso Mi piace premiare Chi ancora Crede nel fatto Che ci siano Cioè Nelle persone che fanno Dei prezzi onesti Quindi Se volete Il negozio È il Magic Store Di Bolzano Vende e spedisce In tutta Italia Bolzano sai dov'è? No Va lontanissimo Quindi spedisce In tutta Italia Li trovate Sotto vi metterò Naturalmente Il link Al sito Quindi Mi raccomando Dateci un occhio Perché comunque Ho visto il prezzo Adesso andiamo Il prezzo è veramente Il più basso Questo Il più basso Che ho trovato Quindi ragazzi Se vi va Andate a buttare un occhio Se già non l'avete fatto 3,60 bustina Va bene Allora ragazzi Adesso Cominciamo a spacchettare Mi raccomando Facciamo il cambio di telecamera E si Comincia Anche perché Dopo abbiamo Ah dobbiamo dire un'altra cosa Aspetta Domani Alle 18 Festeggiamo L'uscita di Voltaggio Sfolgorante Con una bellissima Spacchettata Una bellissima Live Con una bellissima Live In cui regaleremo Una marea di codici Tutti i codici Che non vi abbiamo dato La volta scorsa I nuovi codici Della nuova spacchettata E in più Ci sarà La nuova puntata Del nostro live game In cui regaleremo Le carte Ma regaleremo anche Delle carte Della nuova espansione Quindi domani Proprio si festeggia Alla grande Mi raccomando ragazzi Domani ore 18 Sul nostro canale Mi raccomando Mi raccomando ragazzi Adesso andiamo A spacchettare E cambiamo telecamera Allora Apro io come al solito Sì Oh mamma mia Non si può parlare Noi dobbiamo fare informazione Abbiamo 850 iscritti Jacopo Già qualcuno Vedi per esempio Sul discorso del sondaggio Già qualcuno Ci ha dato qualche consiglio Importante Anche sulle telecamere Quindi questo era per te Perché tu sei un cafrone Che mette le mani davanti Oh Guarda che figata Bellissimo Mamma mia Mamma mia Guarda vediamolo Vediamo Almeno ce la guardiamo un po' Lo volete un consiglio Di investimento A basso prezzo Aspetta Aspetta Qua 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 Fermo qua Fermo qua Ho visto una cosa Ragazzi Compratevi E tenetelo chiuso Guarda i mazzi Il mazzo di Charizard Esatto Tenetevelo chiuso Questo è un consiglio Un consiglio di investimento Mi raccomando Allora vai Questo devi vedere Io intanto apro tutto Allora togliamo Allora togliamo tutto Vedere le carte che preferisco No guarda Guarda Allora mi piace da morire Azzurra Aspetta che prendiamo Prendiamo pure le slip Oh Pikachu Pikachu Questa sono energia A GoPol Ah io ho quattro Voi ragazzi Avete già comprato oggi Avete cominciato a spacchettare Che ci dite Che ci dite Allora È questo Ti ho lasciato I pacchetti più brutti Bravo Mamma mia No non è vero Due sono belli forse Allora Due forse sono belli Mettiamoci qua Cominci tu al solito Giusto Sì Guarda che Aspetta Voglio mettere anche io Pikachu No Pikachu Me lo voglio lasciare per ultimo Ti ho lasciato Pikachu Allora ragazzi Adesso arrivi Mi raccomando Domani ragazzi Ore 18 in live Sperando che non ci siano I problemi di lag Dell'altra volta Ah Allora Codice per voi È andata Ok 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 Questi mettiamo qua Allora Perfetto Mi raccomando Mettiti un pochino Bravissimo Vai Poi abbiamo Fabia Ti riesci a mettere un pochino più vicino Perfetto perfetto Guarda Bravo così Ottimo Excadrill Crocrocrocrocrocrocro Ivi Riolu Rubretle Schuppet Trabbish Kakuna La campana ha suonato proprio quando tu hai tirato fuori questa schifezza Va bene Non ci lamentiamo Non ci lamentiamo Bisogna essere pazienti Giusto? Ragazzi Vi ricordiamo che questo video oggi esce alle 21 Perché E se su Pikachu esce la carta più bella del mondo? E muoviti a farla uscire no? Allora Dato c'è tuo fratello che cerca di salire Eludendo Allora Ecco qua Ragazzi Il secondo codice per voi Spade e scude Voltaggio sfogorante Andiamo Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mi sento fortunato oggi Un po' di fortuna anche per me Che ieri è stato il mio compleanno Fuoco Fuoco ci piace fuoco? No Allora fuoco Aspetta Il pacco di prima era dedicato Visto mi sono dimenticato A Lorenzo Ingoia 1 Questo invece è per Feli Panda Energia a fuoco Angoura Excadrill Kebstrica Stadio di Golwick Guarda che figata Wishmore Perché piange secondo te? Un po' Perciò che l'acqua è fredda Slugma Mudbray Che si rotola nella sua stessa Cotony Joltik Va Guarda che figata Vapore al reverse Che però è rara Va bene Va bene Va bene ragazzi Ricordiamoci Non bisogna essere Troppo avidi L'altra volta Siamo stati fortunati In abbondanza Quindi Cerchiamo di stare calmi Codice per voi Questo è chi lo do Allora Questo pack Ragazzi di qua È dedicato Invece a Fedotaku Senpai Underscore Senpai Vai Mettiti più al centro No un pochino più avanti Bravissimo Allora Energia Uh Bizzola Beh beh Elmo Delmais Uh questo di qua ce la devi far scambiare Giusto? Crocrocrocro Widow Widow Wilmer Sandile Riolu Sai che forse Ferrosid Mi raccomando Forse Telo Mano Ninjas Mi sa Mi sa che questa sera Troviamo Ci vengono a salutare pure loro Perché senti che Mamma non riesce a tenerle Tutte e due Che ti sento Però l'altra volta Ci sentivano urlare di più Ti vedo triste Jacopo Che succede? Eh non stiamo trovando niente Non stiamo trovando niente E solitamente I pool dei E Dei Come si chiama qua? Dei set allenatore Adesso te lo dico Codice per voi ragazzi Allora Questo invece Dedicato ad Andread 77 2 3 4 Gratta Energia Acqua Oh Non l'avevo vista Non l'aveva vista Non l'avevo vista Si sono Io ho testimonio Allora Questo è per Andread 77 Energia Acqua Stadio di Goldwick Ancora Ludred Kakuna Quittl Pikpek The Den Whooper Yanma No Che cosa Jacopo? Non lo so Swuba E Lycanroc Però Normale 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 Ma tu mi sto Nervosendo Tu no? Io sono Nervosissimo Secondo me sono Ste Caspita Di Sleeve Che preparo Ogni volta L'altra volta Non ne avevamo Ed era super Sculata Ragazzi scusatevi C'è anche per il video Dell'ultima volta Che non era il massimo Con le inquadrature Tu me l'avevi detto Ma io non ci volevo Credere Allora Questo è il quinto pack Per voi ragazzi Codice Allora Questo invece Lo dobbiamo dedicare Aspetta che me li segno Perché se no me li perdo A Don Mattia 78 Official Jacopo hai guardato? No Dimmi la verità No Sta ridendo Quindi secondo me sì Questo è per Don Mattia 78 Official Official Vai Metang Va veloce Quindi qualcosa ha visto Onion Bizzolorelmo Wismur Rockroof Voltorb Mettiti bene Linkada Cimecio Giraccia Mazing Mamma mia Falla vedere bene Guardala Che bellezza Ragazzi miei Bravo Mamma mia Questo che ho fatto bene a guardare Bravo vai Ma ma chi se ne frega Oh Vieni qua Vieni qua Doppia sleeve per Giraci Guarda che bello Mamma mia Mamma mia Questo fra l'altro Avrebbe tanto valore Guardala Guardate Guardate ragazzi Che olografica fantastica Questa è la seconda Mazing che abbiamo Mamma mia E gli diamo naturalmente Pure una sleeve nuova Di voltaggio sfolgorante Quindi doppia sleeve Per lui Mamma mia ragazzi Mamma mia Guarda Giraci vale tanto Quanto una V Bella bella Bravo 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 Finalmente Poi è una figata Sto fatto che ci siano le Le amazing a posto del reverse Perché così insomma Beh Allora Bene C'è pure sale b in questa espansione Che vorrei Tanto uscisse È amazing È amazing pure quella Allora Codice per voi Quindi diciamo che il pack di Don Matteo è stato molto fortunato Sì Questo è il codice per voi ragazzi Allora facciamo il click Allora facciamo il click Uno due tre Quattro Gratta Non gratta Non lo so Non sai Non tu non sai però Io non so Non ho molta Molta dimestichezza Io invece riesco a vedere Anche se non vedo Vedi anche se non vedi Come fai? Ragazzi Questo è il sesto pack Ed è dedicato a Team Among Us 58 Eh a me piace Among Us Eh infatti Ti piace perché non ti ci facciamo giocare Energia lotta Ferro Torn Dewot Formaggio Mumu Mood Break Che si continua a sbiascicare ovunque Picky Pack Sea Dot Sand Hill Joltik The Denner Reverse Ancora Oh ma manco la V Che schifo Eh giraci Chi se ne frega di giraci Eh c'hai ragione L'altra volta siamo stati tanto fortunati Io qua pensavo Un Pikachu V Max Olo Reverse Omega Olo Scusate ragazzi Nemmeno una Olo l'abbiamo trovata ancora Allora ragazzi Codice per voi Fate scudo Voltaggio sfolgorante Fai vedere le energie Diciamo a chi è dedicato A questo pack Questo pack È Dedicata a Raimondo Punto Russo 14 Energia Ombra Ombra Electric Dusclops Fossilia Distrattis Questa mi piace Electric Duskul Mettiti un pochino più in qua Fampi Beldo Questa ansia mi sta facendo vedere Guido Dai almeno una Stumfik di Gala E Alcremi Mamma mia ragazzi Abbiamo forse trovato Un set allenatore più schifoso Però non può Non superare la statuetta No 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 Già giraci va bene Già giraci Ha un valore Siamo intorno ai 25 euro di valore Quindi siamo quasi andati Ok Ultimo pack Però il più fortunato è stato Don Mattia Secondo te prete Secondo me non è un prete Però magari si che ne sai Allora ragazzi Spade e scudo Voltaggio sfolgorante Codice per voi Questo è l'ultimo pack Che è dedicato a Gregorio Cardinali Una persona con un nickname Di tutto rispetto Allora uno due tre quattro Ho visto tra Tra preti e cardinali qua Allora Energia Ah non guardare No 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 Non lo so Però ti sembra Che c'è qualcosa Eh forse Eh forse però no Non mi sei sembrato convinto Allora ragazzi Energia foglia Fabia Che già abbiamo trovato Un'altra volta Poi Poppy Ti ricordi Ma questa è vecchia Giovane Periglia Si dice anziana Nudslip Yamma Fumpy Clefairy Electric Dai dai Seed out Staff lega Reverse E Lo schifo Più totale Ragazzi E Uno Spacchettamento Orribile Però Abbiamo trovato Giraci Amazing Sei rimasto male Vero Anche io sono rimasto male Devo essere sincero Però va bene Va bene Va bene Non ci lamentiamo ancora Allora ragazzi Domani che cosa abbiamo Domani vogliamo sculare un po' Quindi ci abbiamo un altro kit Pre-release E altre tre bustine In più In più ragazzi Alle 18 In live Mentre spacchettiamo Regaleremo anche Tutti i codici Delle bustine Della scorsa volta Che non abbiamo regalato Perché ancora non erano Attivabili Quindi Mi raccomando Puntatelo sulla sveglia Fate quello che volete Mettetevi un appunto Dove volete Dove preferite In bagno Dove preferite voi Magari la gente Io pure Quando vado in bagno Guardo Nelle pareti E c'è qualche appunto Allora Ricordatevi che domani Alle 18 Siamo in live Qui sul nostro canale Allora ragazzi Mi raccomando Per favore Lasciate un like E iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto In premiere Questa sera Regaleremo Il codice Del set allenatore Fuori classe Non dimenticatevi Anche di rispondere Al sondaggio Di cui trovate Il link In descrizione Ragazzi E' stato veramente bello Anche se non abbiamo Trovato E' stato bello Anche se è stato brutto Hai sentito Quest'urlo Disumano Di tua sorella Tu sei ancora sporco Di Nutella Allora ragazzi Ci vediamo domani Alle 18 Grazie per essere stati con noi E per averci seguito Da Roberto E da Jacopo E tutto Anche se siamo un po' tristi Vi salutiamo comunque Ciao ragazzi Ciao Ciao ciao